ciao io sono andrea lanciotti il tuo tecnico digitale per chi ancora non mi conoscesse io sono un tecnico specializzato nel mondo delle telecomunicazioni di internet di televisione digitale terrestre e molto altro ancora sono ormai 15 anni che svolgo questo lavoro e in questi 15 anni ho aiutato decine e decine di persone decine e decine di clienti a risolvere i loro problemi ed aiutarli a farli crescere sempre di più nel mondo del digitale come attraverso la mia conoscenza e attraverso i miei video tutorial che ho messo qui sul mio canale che sto caricando ogni settimana cercherò di spiegarvi sempre più il mondo del digitale con piccoli tutorial o anche con nuove uscite e nuovi nuovi contenuti che metterò sempre nel mio canale come lo potete vedere tranquillamente ma non è tutto ho creato anche un video corso dedicato per chi? per quelle persone che hanno quei piccoli problemi di ogni giorno problemi tecnologici problemi di internet problemi con la televisione che non vogliono spendere quei soldi per il tecnico che poi alla fine potrebbero essere solo poche stupidaggini quindi io ti ho creato un video corso veramente dedicato con delle lezioni totalmente dedicati nel mondo di internet nel mondo delle telecomunicazioni in più avrete anche in omaggio il mio libro tecnico digitale dalla z dove avrete a disposizione altre mie conoscenze nel mondo di internet delle telecomunicazioni e neanche nella televisione poi compreso anche nell'acquisto del mio video corso sarete invitati nel mio gruppo privato dove potrete ricevere assistenza gratuita da me e da miei collaboratori e avrete anche un sopporto con tutta la community sì perché ci stiamo allargando è da poco che ho messo perché la nostra community si sta allargando ci sono sempre più persone che hanno bisogno di consigli hanno bisogno di aiuto per i loro acquisti per il mondo del digitale terrestre ma soprattutto per il mondo di internet perché vi dico questo perché ci stiamo digitalizzando e qui il tecnico digitale fa a caso tuo sì perché se devi rimanere a casa che lavori smart working ai problemi di internet o tutto il resto c'è il tecnico digitale che ti spiega passo passo come risolvere i tuoi problemi quindi questo è il mio invito soprattutto ti do il benvenuto nel mio canale e molto ancora di più ti do il benvenuto se acquisterai il mio corso quindi non ti resta che conoscermi a meglio già molte persone lo hanno fatto spero che anche tu lo voglia fare ci vediamo sui prossimi video ciao a tutti da andrea lanciotti il vostro tecnico digitale